Abbiamo esposto i doveri di giustizia che ci legano alle anime del purgatorio. Adesso rimane da parlare dei doveri di carità, i quali devono impegnarci nella nostra crociata, non meno dei doveri di giustizia. In virtù della comunione dei santi, le anime purganti fanno parte, come noi, della grande famiglia di Cristo e quindi sono i nostri interessi e i nostri devono essere il loro pene. Il bisogno che essi hanno di noi è immenso, dato la grandezza e la durata delle loro pene. I loro appelli alla nostra carità sono continui, i mezzi a nostra disposizione per aiutarle sono enormi, da cui sorge per noi il dovere di venire in loro soccorso. In questo mondo, dinanzi alle disgrazie dei nostri fratelli tutti, ci commuoviamo, tutti corriamo. La nostra sensibilità e la nostra coscienza ci spingono a soccorrere perfino i nemici. Chi mai perciò potrà rimanere insensibile, dinanzi al martirio di milioni di nostri fratelli, martoriati in purgatorio da pene in mani, da fiamme accese dalla giustizia divina. A questo monto le più atroci sofferenze durano poco e quanto più sono vive, tanto più sono corte. Il corpo succombe presto sotto il dolore e l'anima del martire si sottrae con la morte alla vemenza dei dolori della carne. Ma in purgatorio si tratta di supplizi che durano a lungo, forse più a lungo di quanto comunemente si crede. E noi non presteremo la nostra opera per abbreviare quelle torture. E si noti che queste anime sventurate, che per indolenza omettiamo di soffragare, sono anime sante e predestinate. Sono, se anche noi avremo la sorte di salire al cielo, le futuri compaglie della nostra gloria. Eppure, esse per ora non possono nulla senza di noi. Noi soli possiamo soccorrerle, e senza sacrificarci granché, senza esaurire le nostre forze, senza dar fondo ai nostri averi. In ultimo, quelle anime sono figlie predilette di Dio, la giustizia di Lui le punisce, mentre la di Lui infinita misericordia implora soccorsi per loro. Con i nostri soffragi affretteremo il giorno in cui esse glorificheranno i Dio in paradiso. Disse il nostro Signore, la Santa Gertrude, che ogni volta che liberiamo un'anima dal purgatorio, facciamo cosa così gradita a Lui, come se liberassimo Lui stesso dal carcere. Che vogliamo di più per eccitare il nostro zelo? I Santi, che avevano ben compreso queste raccomandazioni uscite dal cuore ardente del Salvatore, ebbero tutti viva compassione di quelle povere anime, fino a spingere all'eroismo la loro commiserazione. Il padre Nierenberg, della compagnia di Gesù, si offrì come vittima per un'anima che avrebbe dovuto penare lungamente in purgatorio, e dal momento della sua offerta si sentì oppresso da ogni sorta di pena nel corpo e nell'anima. La sua vita divenne a lungo purgatorio, e quel martire di carità non trovò altro sollievo che nella morte, che lo colpì dopo lunghi anni di indicibili sofferenze.